Il senatore Calabresi non ha accettato la mia sventita, e anzi ha dichiarato pubblicamente che io avrei detto il falso, dandomi pubblicamente del bugiardo. Ora, io ho una sola parola e la ribadisco. Non ho mai parlato con Matteo Salvini. Ora, io non voglio sapere quali siano queste ottime fonti di Repubblica. Io voglio sapere qual è la data, il luogo e l'ora in cui avrei incontrato Matteo Salvini. Dal canto mio pubblicherò la mia agenda personale e se necessario porterò i testimoni che dimostreranno che io in quel momento non ero altrove, stavo incontrando qualcun altro. Se Calabresi non vorrà dire pubblicamente qual è la data, l'ora e il luogo in cui io avrei incontrato Matteo Salvini, e se ha delle ottime fonti sicuramente potrà saperlo, allora vorrà dire che ha semplicemente buttato un sasso nello stagno per vedere cosa succedeva. Se sarà dimostrato, e sarà dimostrato, che io in quell'ora, in quel luogo e in quel momento stavo facendo altro, allora credo che coerentemente il direttore Calabresi dovrà dimettersi. E se invece il direttore Calabresi non vorrà pubblicare queste informazioni, che le sue ottime fonti sicuramente dovrebbero avere, allora vorrà dire che procederò alla querela oppure a un gran giurì. Per difendere la mia onorabilità.